Un motore che si è rimesso in moto con grande fatica, se vediamo quanto la pandemia è ancora diffusissima a livello mondiale, parlare di un forte turismo internazionale in questo momento è pure utopia, però possiamo parlare innanzitutto di un turismo nazionale che ci sarà nella nostra città e nella nostra area metropolitana, un turismo internazionale da alcune aree del mondo che già si registra e che aumenterà, poi comunque i napoletani sono quelli che vivono qua e possono rimettere in moto l'economia anche rimanendo nella nostra città e noi offriamo loro un'attrattiva per passare un'estate spensierata e piacevole per quanto è possibile di questi tempi, il napoletano anche consuma, spende e quindi si mette in moto l'economia circolare e poi ci auguriamo anche con una promozione turistico-culturale e d'immagine che Napoli in questo momento possa essere scelta anche da tantissimi italiani e quindi di questo ne siamo convinti e da come sto vedendo dai contatti che ho con altre parti d'Italia, pur nella lentezza mi sembra che siamo quelli che stanno andando più veloci, quindi questo è di buon auspicio per la nostra città. Napoli è pronto insomma dal punto di vista turistico? Napoli è pronto sì, Napoli è pronto e adesso però bisogna anche affrontare un tema nazionale che è psicologico, io credo che bisogna interrompere la stagione del terrorismo psicologico e dell'allarmismo fino a se stessi, che non significa essere approssimativi e superficiali, lo diciamo noi a Napoli che siamo stati, ormai lo possiamo dire i primi, che hanno visto giusto e hanno chiuso scuole e cantieri quando ancora non c'erano ordinanze regionali e di PCM. Adesso bisogna avere coraggio per ripartire, stare attenti da un punto di vista sanitario, auspicando soprattutto che le autorità sanitarie si preparino a eventuali contagi in aumento, ma il cittadino, l'imprenditore, l'operatore dello spettacolo, il commerciante, l'artigiano, il tour operator devono riprendere a vivere e non penso che può essere questa la stagione del sopravvivere, perché mentre altrimenti noi veniamo bloccati dalla paura, c'è un'epidemia sociale ed economica e del lavoro che dilaga e rischia di prefigurarci un autunno devastante, che è il nostro paese molto preoccupato, molto preoccupato perché c'è anche una lentezza del governo a mettere in atto le misure che si è impegnato a prendere, quindi io sono preoccupato per adesso, figuriamoci per l'autunno.